L'avvento di internet nelle case e l'uso massiccio di smartphone e tablet sta cambiando radicalmente il modo di guardare la tv. Le tecnologie digitali obbligano gli editori a confrontarsi con un mondo in continuo sviluppo che stravolgerà completamente il sistema tv come lo abbiamo conosciuto fino a oggi. Di questi problemi e delle prospettive si è parlato venerdì 19 luglio presso l'assessorato all'innovazione in un incontro promosso da associazione stampa subalpina e regione Piemonte con il supporto di CSP. L'appuntamento rivolto agli operatori professionali, agli editori e giornalisti piemontesi ha fatto confrontare e discutere esperti di televisione e di convergenza digitale sugli scenari presenti e futuri e conoscere il sistema dell'offerta della regione, delle società a partecipazione regionale nel campo della ricerca e dell'innovazione. Ma questa mattina si è parlato di tv e digitale quali sono le prospettive? Le prospettive è che la tv sarà sempre più digitale e avrà tutti i benefici del digitale ovvero quella di essere una tv interattiva, una tv connessa, una tv che si vedrà sempre meglio grazie all'ultra definizione e una tv che potrà essere vista comodamente a casa seduti sul proprio divano piuttosto che in mobilità.